Conclusi i 20 giorni di ritiro a Cingoli, la Vispesero ha iniziato la fase 2 della sua preparazione precampionato al Benelli, dove sabato ha fatto la prima apparizione davanti ai propri tifosi nell'amichevole vinta col Fossombrone per 4-1. Contro i vicini di casa e di una categoria inferiore, la Vis disputa una buona gara nonostante i carichi di lavoro del periodo e al netto di un fosso in ritardo di preparazione. A mettersi in luce è stato soprattutto Molina con una doppietta nel primo tempo, concluso sul 3-0 grazie anche al primo gol bianco-rosso del difensore nuovo acquisto Palomba. Nella ripresa il 4-0 di Nicastro su rigore, poi il 4-1 forse impronese di Torri. Abbiamo fatto delle cose buone più nel primo che nel secondo tempo, ma va bene, mi interessava vedere certe cose, mi interessava mettere minuti nelle gambe in vista della gara che abbiamo contro l'Arezzo l'11. Insomma, qui ho visto, ripeto, delle cose importanti su quello che abbiamo lavorato, la condizione logicamente deve migliorare come devono migliorare tante altre cose. Dobbiamo lavorare, siamo all'inizio, abbiamo cambiato tanto, ma ho visto cose importanti da parte dei ragazzi, soprattutto sotto l'aspetto dell'atteggiamento. Ora il primo test ufficiale di Coppa Italia con l'Arezzo, prima dello star di campionato del 26 agosto in Sardegna con la Torres. Sia i nuovi che chi già stava qua si è presentato al ritiro bene, abbiamo fatto un ritiro intenso, abbiamo fatto due amichevoli di prestigio importanti dove abbiamo viaggiato e hanno risposto sempre bene sia alle partite che agli allenamenti che abbiamo fatto, alle riunioni che abbiamo fatto. Vedo un gruppo sano, serio, che cercherà, come ho detto all'inizio dell'anno, di dare fastidio a molte squadre, insomma con l'obiettivo che ci siamo fissati che è quello di soffrire meno rispetto all'anno scorso. Sono felice della squadra che abbiamo, ringrazio il direttore che in pochissimo tempo mi ha fatto avere una squadra pronta perché poi alla fine abbiamo fatto solo i due ritocchi del portiere di Pexoto e di Antor, quindi sono molto soddisfatto per quello e ringrazio il Presidente e la società per lo sforzo fatto perché comunque mi hanno accontentato in tutto. Non è da tutti, abbiamo un grande Presidente, abbiamo una grande società, ve lo assicuro.